Ciao, sono Margot, il mio padroncino è Vincenzo Polimeni, il responsabile dell'Opes, un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e anche della Mago Sub, una scuola trentennale che si trova a Roma di subacquea. Ogni volta usciamo tutte le domeniche, organizziamo gli eventi e a me portano dappertutto, alle fiere, immersione sotto i ghiacci, fare i full day, è una vita dura, però è bella perché ogni giorno c'è un'esperienza nuova, conosciamo persone diverse e la subacquea ci unisce per divertirci e stare tutti quanti insieme. Un bacio a tutti!